Sassari, è forte la carenza di sacche di sangue, una situazione grave che è stata riscontrata nel centro trasfusionale di via Montegrappa. A lanciare l'appello è stato il direttore del centro trasfusionale della U di Sassari, Pietro Manca. Abbiamo raggiunto i livelli di guardia, ha dichiarato il direttore, le sacche di sangue sono sempre di meno e si corre il rischio di dover privilegiare le condizioni di emergenza e urgenza non demandabili. Le sacche di sangue che mancano sono per lo più quelle di gruppo 0 e gruppo A e con la ripresa delle attività chirurgiche c'è stato un maggiore impiego, causando così un nuovo campanello d'allarme. Un problema però che riguarda l'intera regione in quanto mancano riserve di tutti i gruppi sanguigni. Il centro di via Montegrappa per questo periodo, e viste le norme da rispettare contro la diffusione del virus, consente di effettuare le donazioni di sangue tramite prenotazione. I donatori, dalle ore 8 alle 14, possono contattare i seguenti numeri. 079 20 61 462 oppure 079 20 61 496, mentre nella fascia serale dalle ore 15 alle 19 è attivo il seguente numero 079 20 61 625. Per le donazioni nella sede dell'Avis comunale si può contattare il numero 079 25 25 77, dalle 8 alle 14. Per qualsiasi informazione consultare il sito web www.avisprovincialedisassari.it